In vetrina 12 eccellenze provenienti dalle quattro regioni del Mezzogiorno d'Italia. Per la Calabria la cipolla di Tropea, per la Puglia carciofi, olive e cavolfiore, per la Sicilia pomodori pachino e arance rosse e per la Campania mela annurca, melone d'inverno e peperone. Un mix di prodotti proposti in salse che portano alle tradizioni delle altre regioni italiane. Un grande pinzimonio che unisce tutta l'Italia. E' questo il Fruit Veg Experience promosso dall'Istituto per il Commercio Estero. Una proposta di valorizzazione della frutta e la verdura che riesce a stimolare l'interesse dei consumatori ed anche degli addetti ai lavori. Alla presentazione anche l'assessore regionale Fabrizio Nardoni e il direttore dell'Ufficio ICE di Berlino, che ha definito l'iniziativa una sorta di preview di Expo 2015. Quest'anno l'Italia è sotto i riflettori del mondo con l'Expo di Milano, il cui grande tema è nutrire il pianeta. A Berlino in questi giorni la grande forza del Made in Italy agroalimentare. L'Italia è il primo produttore di ortofrutta d'Europa, con circa 20 milioni di tonnellate prodotte in media. Ed è tra i leader dell'export mondiale, con circa 3,7 milioni di tonnellate esportate annualmente, per un valore di 3,4 miliardi di euro, con un trend in continua crescita, nonostante la crisi.